Salve a tutti bentornati sul canale andiamo a vedere i dati dell'inflazione che sono saliti alle stelle al 6.2 in america è un dato super elevato che non raggiungeva dal 1990 è un problema per i mercati ci dobbiamo andare a proteggere come ci proteggiamo possiamo trovare delle occasioni andiamo a studiare Salve a tutti bentornati sul canale intanto spolliciate questo video perché così aiutate il canale a crescere e se per voi è utile questo contenuto iscrivetevi e attivate la campanellina così da essere sempre aggiornati allora intanto andiamo a studiare tutti i fattori che hanno determinato questo aumento dell'infezione USA e quanto e dove dobbiamo andare noi a proteggerci a proteggerci o andare a trovare occasioni esempio questo mese come sappiamo annualizzato è salito del 6.2 tutti quanti i settori se andiamo a guardare mese per mese siamo saliti del 0,9% rispetto a settembre perché il dato che noi abbiamo visto è quello di ottobre ovviamente allora intanto si nota subito che l'energetico è salito del 30% a livello annualizzato 49% il gas online full oil 49% poi abbiamo 50% scusate il full oil il 50% le commode di energy del 49% poi i servizi energetici 11% 28% le utilities su servizi di gas poi 26% le auto usate e camion usati quindi tutto in crescita ci sono tutti dati in crescita tranne in medical care mentre nel mese di ottobre non c'è un dato negativo significa che tutto su tutti i fronti è salita l'inflazione questo ovviamente non è un dato positivo e se volete andare a vedere nel modo specifico visto che magari qualcuno di voi è interessato su settori specifici con qualche azienda specifica potete andare a vedere in questo report che rilascerò link in descrizione per dove scaricarlo per quanto riguarda l'energetico, per quanto riguarda le commode, per quanto riguarda l'abbigliamento e quant'altro quindi potete trovare tutti i dati link in descrizione poi vi ricordo anche che io ho fatto già un video sul canale dove se cercate sul canale lascerò anche questo video link in descrizione dove parlavo di questo report che andremo a studiare a fine di questo video e vi dirò quali sono i punti di svolta che potremo andare ad affrontare ora come si comporta l'indice S&P quando si trova in una situazione di inflazione attuale come quella di oggi andiamo a studiare intanto qui abbiamo l'S&P sopra ovviamente l'inflazione sotto questo è il mio indicatore come vedete siamo arrivati a 6.2 abbiamo superato la crisi del 2008 e siamo al pari adesso del 1990 circa 88-90 siamo al pari lì abbiamo avuto una super iperinflazione nel 1975 qui che era arrivata al 12% e al 14% nel 1980 come se andiamo a notare intanto quando c'era l'iperinflazione è vero ci sono state delle correzioni importanti tipo del 50% ma fino alla successiva iperinflazione ha fatto un 130% poi c'è stata un'ulteriore correzione del 27 fino a che si è smorzata fino al 2 l'inflazione al che dopo ha fatto il super super pump fino ai massimi se andiamo a vedere era fino ai massimi della bolla quindi da qua dall'iperinflazione ha fatto un 1700% quindi l'S&P ha cavalcato dopo esser sceso dal massimo del picco ora la situazione nostra attuale è questa quella del 1990 che cosa ha fatto l'S&P circa in quel periodo? andiamo a studiare ovviamente un dato non può essere un riferimento ma nel dato che vi mostrerò dopo vi dirà qualche informazione in più intanto qui quando siamo arrivati al picco che è uguale e pari a quella di oggi 6.3 circa l'S&P ha fatto questa piccola correzione del 20% nulla di impressionante tranne che per il fatto dopo è partito questo questa ovviamente è la bolla di internet la conosciamo benissimo quindi l'S&P in una situazione inflazionaria alta nel passato sì ci sono state delle correzioni ma è sempre sempre ripartito a cannone e calcolate che in quel periodo il quantity divising non era importante quanto quello di oggi visto che i mercati sono indubbiamente drogati ragazzi è chiaro, è chiarissimo allora andiamo a vedere quindi il dato di cui sopra questo dato che vi ho già mostrato in un video vi lascerò all'altro video dell'inflazione a livello approfondito oggi vado a farvi vedere a livello macro la situazione ma l'ultima volta che ho fatto 6 mesi fa questo video lo troverete in descrizione oppure metterò il baffetto sopra e andiamo a vedere che cosa succede allora se c'è un'inflazione che cresce molto gli scenari sono quelli a sinistra in una situazione di un'inflazione che decresce quindi deflazionaria è la situazione verso destra poi quei due in alto con una media dell'inflazione al di sopra del 2 e sotto al di sotto del 2 ovviamente allora se ci troviamo in uno scenario dell'inflazione che cresce molto ed è avvenuto 10 volte rispetto al 1988 abbiamo i bond che crescono del 7 il cash del 4 quindi il dollaro del 4 poi abbiamo le equity del 13% mediamente le growth hanno una media del 14 le aziende value hanno una media dell'11 le small cap quindi aziende a bassa capitalizzazione hanno una media del 10 le emerging market quindi i mercati emergenti hanno un 26% immobiliare 12 il commodity 11 il gold 4 questo è un scenario di iperinflazione dal 1988 che è avvenuto 10 volte mentre se ci troviamo in uno scenario di un'inflazione che cresce lentamente che è avvenuto 4 volte dal 1988 abbiamo tutti i dati molto forti anche tranne il cash ovviamente che è inflazionato che va male mentre in una situazione di deflazione che non sono i nostri casi è avvenuto 6 volte di una deflazione altissima quindi abbiamo le bond che vanno un 9% il cash un 4 quelle che ne risentono ovviamente sono le materie prime quindi commodities e gold in una deflazione elevatissima che è avvenuta 13 volte dal 1988 abbiamo le commodities che vanno male sottoperformano ok? quindi noi potremmo essere tra questo scenario e questo scenario quindi non è per niente male ci sono le occasioni da poter sfruttare ovviamente bisogna sapere dove indirizzarsi questo è attualmente lo scenario che potremmo trovarci davanti ora prima vi ho mostrato quanto sono forti i dati dell'energetico sapete che l'energetico è quello che è stato molto più crescente in questa fase vi faccio rivedere solo un secondo questi dati un 30% tutto il settore energetico vi faccio vedere il settore energetico dal minimo del crollo covid ha recuperato un 150% e dove ci stiamo dirigendo verso la resistenza più forte di tutte questa sarà una prova del 9 anche perché si sta creando una wedge bearish si sta creando una situazione in cui potremmo essere respinti da questo livello e a vedere una correzione dell'energetico primo scenario secondo scenario se l'inflazione dovesse continuare a cavalcare vedremo l'energetico andarsene su e andare to the moon quindi questi sono ovviamente i vari scenari che si possono presentare in una situazione di inflazione elevata come è oggi noi dove dobbiamo andare a guardare come vi ho mostrato prima ci sono le opportunità su tutti i fronti con l'inflazione che cavalca quindi c'è modo di essere tranquilli su un mercato inflazionario chiedo scusa per il titolo aggressivo ma sapete benissimo che youtube cerca titoli clickbait grazie a tutti un bel like spolliciate come sempre e grazie per essere passati qui da Massimo Rea grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti